Ok l'abbiamo fatta E che c'è voluto Mio dio Tutte le cretinate che mi ha fatto perdere Tutto il tempo mi ha fatto perdere Facebook per le cretinate Facebook Sì vabbè YouTube eccetera Ma le cretinate proprio No così non va bene Mamma mia Che pazienza Che pazienza Fatto perdere un sacco di tempo Google verifiche Non mi voleva cambiare la copertina Della live Un casino Vabbè cose Allora oggi Praticamente Quello che facciamo E che voglio progettare Una chitarra Nuova Non ho ancora idea Di che chitarra Ma ci sto pensando Devo pensare un po' alla forma Anzi I feedback saranno molto ben accetti Perché essenzialmente Voglio C'ho un po' di legni E un po' di robe Che voglio utilizzare E sto pensando A un Qualcosa di interessante Qualche Forma particolare O cose del genere Non ho ancora deciso bene Che cosa voglio fare Ci penso con calma Però di base Voglio fare Questo Progettare una chitarra Ancora sto decidendo bene La forma Perché Onestamente Non ho idea Di che forma Posso utilizzare E poi Volendo Rispondo a un po' Dei commenti Se c'è star tempo Perché volevo iniziare Un'ora fa Però ho finito tardi Di lavorare Perché sia Io lavoro anche la domenica È bellissimo È una cosa fantastica Allora Fammi condividere pure su youtube Il fatto che sono live Visto che ci siamo Crea post Mettilo qua Posta Così Facciamo In Tutto quanto In live Dovevo Pubblicizzarlo Un po' sta cosa Ma ci ho avuto Onestamente Da fare Perché Perché La vita è fantastica E allora Praticamente adesso Quello che voglio fare Siccome ho la possibilità Di condividere Direttamente Il tablet Cioè guardate Figata Ma chi ve le fa Ste cose Guarda che figo Guarda che figo Praticamente Allora Visto che ho la possibilità Di fare questa cosa Allora ho deciso Perfetto L'idea è buona Questa di fare Proprio una chitarra In live Allora Non ho Bene idea Di che forma Voglio fare Sicuramente Sarà una chitarra A sei corde Perché tanto Una fracca di meccaniche Qua che posso utilizzare E Diciamo Non ho troppi problemi A reperire materiali Cioè tutto quello Che mi serve Qua ho già un ponte Che posso usare Ma non so se utilizzerò Perché non mi è piaciuto Ma tanto un ponte Se compri Un ponte Hardtail Ho un po' De meccaniche autobloccanti Che mi sono rimaste Ma sono Abbastanza una cagata Quindi non sono sicuro Che le userò Ho però Delle meccaniche Soundstation Che mi sono piaciute Abbastanza Però l'ho levate Dalla otto corde Perché Essenzialmente Dovevo mischiarle Con altre meccaniche Di minore qualità E quindi poi Veniva Una merda Infatti c'avevo Altre di queste meccaniche Vediamo un po' Se le ritrovo C'ho qua Un boato De roba Meccaniche a caso Ecco Per esempio Avevo questa qui Che era Inutilizzabile Però siccome L'ho presa Tipo Il nulla cosmico Andava bene E Poi devo fare un po' Di roba Sono varie chitarre Però quello sarà In un secondo momento Ma chissà se Ok Perfetto Però Di base L'idea È quella Di progettare Una Chitarra Insieme Dove sei OBS Poi vediamo Lo mando pure Lui Si Ok 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 Intanto sto condividendo Un po' la live In giro Perché magari A qualcuno Interessa Lo dico Sui messaggi De whatsapp Le cose Allora Vediamo 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 Non dico Matteo Se gli interessa Ok Voilà Vediamo Giù Ok Bello Alberto Bello Alberto Inizio a fare Il progetto Perché ancora Non ho ben idea Di cosa Però Ho deciso Che voglio Fare una chitarra Elettrica Vediamo Non ho ancora ben Chiaro Cosa voglio farci Su questa chitarra Ma sicuramente Sarà una chitarra Elettrica Allora Per oggi La progettiamo Quindi essenzialmente Non facciamo Altro che Disegnarla Ho la possibilità Di condividervi Il Il file Diretto Di Del tablet E quindi Iniziamo Allora Innanzitutto Direi di mettere Una carta Spostazione Pagine Non posso spostarlo Questo mi dà proprio fastidio Ok Anzi mettiamolo Qui sopra Icona Ok Va bene Allora No va bene Così la pagina No io volevo Mettere Ah modello di pagina Perfetto Che volevo Una pagina Con i centimetri Così Sto più comodo Oh Alessandro Alessandro Recupero Quale Allora Aspetta 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 Un attimo Aspetta Allora Ok Bella Ma dove stessimo Alessandro Ricupero Se siamo Conosciuti Oddio Non mi ricordo Dammi un contesto Bella Daniele Sto facendo la cassa Brutut Nel frattempo Bene Io intanto Progetterò una chitarra Alessandro Dammi un contesto Perché siccome Sti giorni Sto rincoglionito A bestia Non mi ricordo Neanche Come cazzo Mi chiamo Dammi un contesto Allora Però Oggi voglio costruire Sta chitarra Ho preso la carta Millimetrata Qui Perché ho la possibilità Centimetrata In realtà Ho la possibilità Di girare un pochino Tutto Muovermi Eccetera Lo vedete direttamente Una bella acustica No La sto progettando Un'acustica Però Mi mancano i materiali Cioè mi mancano i materiali Mi manca della strumentazione Che adesso Non ho tempo di costruire Perché essenzialmente Se io devo fare le fasce Di un'acustica Quindi Da così Io le devo fare così Diciamo Molto Anzi Facciamole un pochino meglio Ecco O fare una cosa del genere Io le devo piegare Per piegarle Mi serve una cosa Che si chiama piega fasce Il piega fasce Costa Un sacco De soldi E allora Me ne devo costruire uno E quindi Devo inventarmi qualche cosa E il momento Però voglio fare un'elettrica Perché ho del legno Che voglio utilizzare E sto ancora cercando Di capire Che cosa fare Ma io volevo vedere Tra l'altro Se c'era anche Un modello di pagina Con i centimetri Più piccoli Tante volte No eh Vediamo se posso aggiungerli Aspetta fammi vedere Ah no niente Scaricati Fammi vedere Invece di usare quello Usiamo Questo va Più comodo No va No non mi piaceva di più Come era prima Devo vedere Se ci sta qualche Modello di pagina Magari Piliamo tutte le pagine Lasciamo questo in centimetri Va bene Uguale Però essenzialmente Allora Quello che voglio fare Innanzitutto La forma Questo ancora Non l'ho deciso Quindi questa La sto ancora cercando Di decidere Però vediamo se Io girassi così No Voi lo vedete uguale Perché altrimenti Lo vedete più grande Lo vedete così Ah no È meglio così Va Meglio così È meglio così Va bene Sto cercando Che legni hai Allora Ho del Venghe Che userò Per il manico Quindi Il manico Lo faccio in Venghe Poi Quindi Lo scrivo qua Venghe Manico Poi Ho Dello zebrano Per la tastiera Sì Non ho una bella Calligrafia Ragazzi Fatevelo andare bene Non riesco A scrivere molto bene E poi Ho un legno Non ben identificato E chiameremo Proprio così Legno Non Bene Identificato Per Il corpo Perché ho sto legno Che mi hanno essenzialmente Regalato Veramente Regalato Non l'ho pagato Che Non ho Ben capito Che cazzo De legno è Tipo grigiastro Non lo so Sarà qualche tipo De moganoide O Roba del genere Sto ancora ragionando Per capire Se effettivamente Mi piace Però prima di mettere Anzi Prima di mettere Il modello Della pagina Lasciamo la pagina Vuota Perché voglio vedere Di Fare un pochino Sta cosa Però voglio fare Prima una roba E togliere La rotazione Automatica No Non orizzontale Lo mettiamo così Perché così Io posso girare Il tablet E a voi non gira Allora Quindi inizierei A fare prima Il corpo Ora Di base Non ho ben idea Dell'estetica Che voglio dargli Però Ho una mezza Idea Perché L'ultima che ho fatto Che era Cioè L'ultima che ho progettato Che era La Bisanzium Aveva sta forma Così Diciamo Ma la faccio Molto A grandi linee Giusto per Ricordare Giusto per farvi capire C'è una cosa del genere Mi pare La Bisanzium Tripla Sì Tripla qua sotto Quindi così E poi così Qua così Un po' più lunga Questa Qui c'aveva L'artiglio Qua Questa Tipo così Insomma La vediamo per bene Questa Aveva una forma Del genere Quindi io vorrei fare Una cosa Un pochino Particolare Non voglio fare Una forma Del cazzo La solita stratoforma E sto pensando A qualcosa In interessante Quindi magari Potremmo fare Anche questa cosa Partire dalla Bisanzium Anche questa potrebbe Essere un'opzione Si potrebbe partire Dalla Bisanzium Come forma E fare qualcosa Di simile Ah innanzitutto Io direi di farmi Un paio Di Che cazzo Perché no Che diavolo succede Ah Mi ha bloccato Il disegno Che scemo Volevo mettere questo Io direi Di fare una pagina Nuova E mettere Una bella linea Orizzontale O meglio Orizzontale Rispetto al collo Verticale Due belle linee Così Un parallele Una Magari più al centro Aspetta Facciamo una qui Ok E una qui Che dovrebbero essere Il nostro manico In linea di massima E poi da qua Andiamo avanti Diciamo così Va Facciamo così Infatti Vediamo se Si Facciamo così Diciamo che questo È il nostro manico Realmente E poi da qua Vediamo di ragionare Su una forma Allora O potrei fare una cosa Del genere Quindi per esempio Se questo è il mio manico Faccio una roba Tipo la Bisansium E quindi Magari faccio sempre Una roba Arrotondata qui Così Ingrandiamo un pochino Giriamo di così Troppo grande Aspetta Facciamo un po' più piccolo Così per esempio Sono fatto troppo giù Mi sa Aspetta Rifamolo più sopra Potrei fare una roba Potrei fare una roba del genere Per esempio Sì Non mi dispiacerebbe Perché questa Era la Bisansium Allora Innanzitutto Magari Lasciamo un po' più Di spazio qua Che voglio fare Una forma particolare No Allora Facciamo così Facciamo una single cut Va Quindi Facciamo il primo pezzo Che è molto piccolo Facciamo in realtà Una double cut Ma con Il Un corno più piccolino Tipo Mockingbird Per capirci Quindi fare una forma Del genere Per esempio Non sarebbe male E poi una cosa così Per esempio Però non sono ben deciso Poi I feedback Sono ben accetti Se vediamo Ma se fai una forma Del genere Per esempio Perché inventare Una forma di una chitarra Non è affatto facile Perché È una delle cose Più difficili Che potete fare Allora Ingrandiamo un pochino Mettiamoci proprio Sul manico Quindi qua Allora Sul manico Sul corpo Un'estetica Vediamo Se sono tutti Legni neri Comunque Legni scuri Dobbiamo fare qualcosa Di aggressivo Magari Che cosa Che ne so Potrebbe essere Vediamo un po' Di minerali Aspetta Facciamo una cosa Aspettate un attimo Allora Mi serve questo Vediamo un pochino Di minerali Qualcosa del genere Qualcosa Che può essere Interessante Perché effettivamente Se è nero Possiamo prendere Come Come base Un minerale Vediamo Minerali neri Minerali Neri Vediamo che c'è Perché io avrei Anche del marmo Con questo colore Qui Quindi volendo Potremmo fare Una cosa del genere Potremmo prendere Qualche forma Di qualche minerale Eh per esempio Potrei fare Tutta una forma Triangolare E così Riempirei Con tutti I marmi neri Tanto me ne vado A prendere altri Tutti con triangoli neri Oddio sarebbe figo Con tutti i triangoli neri Ci riempio la chitarra Se volessi farla Di marmo Volendo Se no Semplicemente Posso anche Prendere dei pezzi Di ebano E di paduk E tanto Lo trovo abbastanza facile L'ebano e paduk E fare una specie Di mosaico Però di legno Stavolta Che non sarebbe Una cattiva idea Un'ammazzata Ma sarebbe figa Ok Questa non sarebbe Una cattiva idea Però ok Diciamo una forma Che ha come base Un triang Dei triangoli O qualcosa del genere O magari Qualche cosa del genere Quindi per esempio Per esempio Potrei fare Una cosa così Se noi partiamo Di base Che dobbiamo avere I due corni Quindi qua Abbiamo il ventiquattresimo Tasto Qui Quindi questo è il 24 E poi abbiamo Qui che ne so Il 16 Più o meno 18 Insomma vediamo Poi a seconda Di come viene Io potrei fare Una forma tipo Poligonale Per esempio Più poligonale Possibile Per fare una cosa Un pochino diversa Quindi fare un corno Così per esempio Tutto squadrato Per dire Così sembra un cazzo Eh non sarebbe male Però Tutta una forma Tutta una forma Poligonale Sarebbe Non sarebbe male Come idea Un po' più alto Così tipo Tipo così E quindi E quindi Invece di fare Curve Fare tutte Parti Dritte Per dire Per esempio Però non lo so Potresti fare una Ficata assurda E infatti Ci avevo pensato Infatti Ci avevo pensato Però quello è il secondo Pezzo In realtà Devo prima Indicidere Qualche forma Vediamo un po' Di forme geometriche Strane Vediamo un po' Di frattali Per esempio Vediamo un po' Di frattali In natura Per dire Perché ci stanno Cose fighe Se prendiamo Dalle forme naturali Volendo Cioè per esempio I broccoletti Cioè Sono delle cose Spettacolari A livello geometrico Però vabbè Vediamo Oh se trovassi Per esempio Delle vecchie Conchiglie Fossili Dei fossili Potrei inserirli E fa una chitarra Che mi dia Qualcosa come Fossile Oppure ancora più figo Potremmo fare Siccome è una pianta Se qua sono Semplicemente Le venature Che trovate Nelle foglie Sono dei Canalico Niente di che Se ci metti Le pietre Ma sai Ho capito Però possiamo fare Questa cosa Questa secondo me Verrebbe figa Fanno una forma Che ricorda una foglia Per esempio Sarebbe interessante Fare una foglia Una forma che ricorda Una foglia O qualcosa del genere Per noi vediamo Qualche tipologia di foglie E ci sono delle foglie Fighissime in natura E fare Applicandoci semplicemente La corrente La corrente al corpo Fare tutte queste venature Così Perché queste venature Già sono presenti All'interno del legno Semplicemente Noi applicando Una corrente elettrica Dovremmo ottenere Questo tipo di effetto Quindi questo qua Per farvi capire Aspetta Bruciatura Elettrica Legno Vediamo se riesco A farvelo Capire quale Diamo una cosa Del genere Vediamo un po' Aspetta Perché c'è la Jared Dines Una cosa del genere Jared Dines Self Made Chitarra Che non è proprio Self made Ma Io spero Me la becchi No C'è una chitarra Che Si era fatta Insieme a Ecco Perfetto Io voglio ottenere Questo effetto Qui Questo potrebbe Essere interessante Perché questi effetti Sono dovuti All'elettricità Che si muove All'interno del legno Quindi questo Potrebbe essere Fico Però il legno È già nero Di suo Non so quanto È scuro Non so quanto Si vedrebbe Però potrebbe Essere una cosa Interessante Però questo Magari è dopo Però potrei fare Una forma Tipo foglia Vediamo un po' Forme Di foglie Perché io poi Così vado in giro Mi cerco Foglie strane E mi trovo Da lì Qualche Ispirazione Cose Per esempio Se conoscessi Se conoscessi Il legno Del corpo Vediamo che legni Grigi ci stanno Legno Grigio Grigio Scuro Vediamo Naturale Chiaramente Cioè Chissà Che cazzo Di legno È Che quello Non riesco A capire Non riesco A trovare Che legno È L'ho cercato Ma io vi giuro Che non so Che legno È Allora Non saprei Che legno È quello Vediamo Legni Esotici Perché sicuramente È un esotico Ma sarà Un moganoide Secondo me Però È stato tenuto Capace male Perché Io penso Sia qualche Legno esotico Non penso Un ebano Mi sembra Strano Per essere Ebano Vediamo Qualche Legno esotico Africano Perché uno È venghe Ah però Aspetta Vediamo L'albero Di venghe Venghe Albero Vediamo Un po' Che forma C'ha Perché È bellissimo L'albero De sto legno L'albero Che impiamo Sto legno Vediamo Un po' Che foglie C'ha Questo Allora Aspetta Intanto Fammi vedere Che pianta È È una Milezia Laurenti Ok Vabbè È una Magnolopsida È sempre Una fabacea Comunque Ok E Ah Sì Va bene Vediamo Vediamo le foglie Vabbè Le foglie Sono abbastanza Banali Le foglie Del venghe Vediamo le foglie Dello zebrano Oh Yeah No Zebrano Albero Vediamo Vediamo un pochino Perché lo zebrano È Questo è un'altra È completamente Un'altra specie Madonna Quanto sono lenti Sti siti Però No Io voglio vedere Le foglie Però Io vorrei vedere Le foglie Come sono fatte Dai Fatemi vedere Le foglie Allora Oh Che cavolo Perché potrebbe Essere interessante Visto che C'ho Lo zebrano Fare le foglie Dello zebrano Mogani tree Non lo so Va bene Facciamo così La forma Incominciamo a dargli Una forma Io direi Double cut Di base Farei un Double cut Quindi Una roba Del genere Uh Aspetta Forse mi è venuta Un'idea E se Facessi Una Una specie Di spada Per dire Cioè Se dovessi Tradurre Una spada In chitarra Come sarebbe Perché potrei Fare una forma Tipo Sempre B Si rich Se no Possiamo fare Una v Volendo E quindi Fa una cosa Del genere Per esempio Vediamo La v C'è un po' Più Indietro Fare una forma Del genere Per esempio Questa è la forma Base Quindi No però Già la voglio Fa una v Quindi no Questa qua No Questa no Allora Facciamo così Facciamo sì Una forma Sempre Per il momento Voglio Voglio provare Questa opzione Voglio fare Una Double cut Stile Strato Sempre un po' Più Accuminata Magari Su Sui Corni Aspetta Ho chiudato la porta Ah ma è già chiusa Ma in casa mia Fanno casino Diciamo Facciamo Una Forma Di base Stratoforme Quindi sempre Una double cut Facciamo così Giusto Avevo un'idea Approssimata Ok Giusto Avevi una Approssimazione Abbastanza Rapida Della forma Dovrei farla Più su Però diciamo Che così Già Una roba Ok Se faccio così No E poi Gli do Un pochino Di Curve strata Facendo Perché Non ho Non mi trovo L'ispirazione Per questa Onestamente Non ho ancora Trovato Un'ispirazione Per esempio Se volessi fare Una cosa Tipo Foglia No Fa una cosa Più così Sì Ma sai quanto Ci metto A fare tutte Ste cose Così Se dovessi Falle Dal legno Volessi fare Questo Però sarebbe Figa Sarebbe Un dito Al culo Da fare Ma sarebbe Figa Però se Li facessi No ma Sai quanto Cazzo Ci metto Ma poi Non sarebbero Mai resistenti Non so se Quel legno È così Resistente Ma fatemi Vedere una cosa Allora Fatemi un attimo Vedere Io qua Da qualche parte Dovrei avere Qualche Altro vecchio Progetto No allora Se togliamo Completamente La double cut Perché poi È difficile Fare corpi Da zero Ogni tanto Ti viene L'ispirazione Ogni tanto No Se togliamo Completamente L'idea Della double cut E quindi Magari Partiamo Con una Single cut Invece Che Double cut Sarebbe Un'altra opzione Allora Facciamo una cosa Però Se io riuscisse A girare Sta pagina Vediamo Aspetta Spena Attimo Perché Vorrei girare La pagina Aspetta Disegna Sulle dita Impostazione Pagina Colore Sfondo Segno Verticale Aspetta Scorrimento Impostazione Volevo mettere La pagina In verticale Però Così voi La vedevate A schermo Intero Io la Vedevo Grossa Se no La devo Mettere Così Aspetta Un attimo Voglio far Sapere Che poi Questa Qua Cosa la sto provando Adesso Se faccio La rotazione Automatica Quindi Me lo giro Sto coso No E lo metto Così Però poi Dico Al Al Quick share Qua Le impostazioni Me le posso Vedere Impostazioni Ok Vediamo Formato Tablet Ok Vediamo Un po' Così No eh Non gli piace Non gli piace Vediamo Così Ma perché Non me lo fai Come dico io Vabbè Niente Pazienza Pazienza È un po' Limitata Questa cosa Dello smart view E niente Lo dobbiamo mettere Così Per forza Per forza Così Se no Voi non vedete E allora Lavorerò così Allora facciamo una cosa Faccio la pagina più piccola E così Voi lo vedete bene Allora Fatemi togliere Queste due Che non mi servono Allora Elimino Elimino Allora Li faccio Di così Li faccio La mezzana Di così E poi me lo ingrandisco Dopo il disegno Però così almeno Voi lo vedete bene E io posso Girarmelo E disegnare Come capita Mi pare Allora Vediamo un po' Ibotizziamo di Voler fare una cosa Leggermente diversa Ok Facciamo così Vogliamo fare una forma Che non è Ne double cut Vediamo un single cut Volendo fa un single cut Quindi io parto da qui Il manico Faccio il primo cut La prima parte così Anzi Fiamo così Fiamo solo il manico qua Cioè Fiamo solo il corpo qui Faccio la prima parte così Anzi Un po' più indietro Il segnale In scala Non è Non è mai facile Per esempio Io devo arrivare fino a qua No Ok Uh Aspetta Forse mi sta avvenendo un'idea Mi sta avvenendo qualche idea Aspetta Se io faccio così Sta avvenendo un'idea Sto avendo un'idea Allora Vediamo Questo qui Un po' più indietro Ci mettiamo qui Qui mi finisce L'altro pezzo Della chitarra No? Se io facessi Questa è la forma base Vedi però così Non riesco Con fatica Perché ho poco spazio Su sto tablet Su sto tablet Di solito Io metto Il tablet Fisso in verticale E poi lo giro Perché così Ho la pagina più grande La posso ingrandire Qua Sono un po' limitato Però Per farvelo vedere a voi Così è più figo Allora Quindi se io facessi Questa è la mia base No? Poi ho qui il manico Così Tipo Anzi no Metà del manico Così E qua inizia Il cut Allora questa è una single cut In linea di massima Ma proprio In generale In generale Molto molto semplificata Questa diciamo È più o meno una single cut Se volessi Fare una single cut Sarebbe una cosa Leggiale Ok Da questa qua Cerchiamo di dargli un senso Quindi Se io per esempio Allora Questo qui Ma siccome è nera Aspetta Ma esistono le aquile nere Vè? Esistono Potremmo fare Una cosa tipo un'aquila Come Come modello Quindi prendere una cosa Del genere Ad esempio Quindi fare Per esempio Potrebbe essere Un'idea Eh Per esempio Il becco qui Su un corno Però sarebbe Al contrario A meno che Non faccio A questo punto Una double cut E quindi fare E quindi fare qui Il becco Così tipo Vediamo Il becco dell'aquila È un po' più Accuminato È dritto Fino È dritto Fino a una certa Poi scende Poi scende giù Così tipo Fa Sta specie Di Artiglio Così Poi va dritto E risale Quindi lo posso fare Una cosa del genere Per esempio Qua ci faccio Gli artigli Quindi invece di fare Il cut In questo modo Possiamo fare Sempre di così Vediamo Come sono Le zampe dell'aquila Fammi vedere Zampe Vediamo Ok Tipo così Io poi arrivo così E faccio una roba Del genere Quindi così Per esempio Quindi Mo sto Approssimando Quindi fare qui L'occhio No un po' più indietro Quindi qua il becco Qui l'occhio Per esempio Così Molto Ma un po' più giù In realtà Ce l'hanno Quindi Lasciare un po' di spazio Fare L'occhio Qui così E così Tipo Qui c'è il becco Quindi sotto l'occhio Arriva un pochino così Sarebbe un'opzione Per esempio Quindi fare le ali Qui dietro Quindi questa Invece di fare così Fa una cosa del genere Tipo Non sarebbe una cattiva idea L'unica cosa Non mi convince St'artiglio Ok Non sarebbe una cattiva idea Per esempio Però Allora A questo punto Invece di fare L'artigli a tre Io direi Le fanne uno solo Di così Che viene meglio Ecco E allora A sto punto Facciamo questo Fatto un artiglio Di così Poi facciamo Questa cosa così Che Aspetta Così Così va bene Eh sarebbe un'opzione Poi ci facciamo Effettivamente Una forma del genere Per risalire Toglio questo Poi qui facciamo così Ok Però questo deve essere Più alto Ok Allora se io per esempio Qui togliessi Il cut No Facessi una cosa Del genere Mi so Piano piano Mi vengono le idee Quello così Io di solito Faccio delle chitarre Allora Questo è il manico Quindi Partiamo da questo No Se io togliesse Questa parte Facessi una cosa Tipo più così Allora Questa parte di sotto Mi piace Con l'artiglio Verso giù Che fa tipo così Poi si gira Risale Quindi c'ha tipo L'artiglio qua Mi piace Poi va di così Risale in questa direzione Però è la parte sopra Che ancora Non mi convince Onestamente Può avere un senso Ma ancora Non sono convinto Quindi per esempio Poi Ripeto Consigli Sono ben accetti Ok La parte sotto Non mi dispiace Potrei fare Una cosa del genere Però voglio capire La parte sopra Se questo dovesse Proseguire così No Perché a quel punto Farei un Set neck Incollerei il manico Non farei un manico Avvitato Perché non ha senso Una volta che c'è il manico Tanto vale che fare un set neck Così ti viene meglio Così ti viene meglio Allora Io andrei Piochino Più indietro Col corno No Va bene così Il corno Questo però Facciamo un po' Più Indietro Così Ecco Tipo così Comincio Comincio a avere un senso Parte sopra Come Iceman Come la Iceman Qual è Qual è Ah ok Sarebbe un'opzione Quindi fare Sarebbe una single cut E mi darebbe volendo Un po' di spazio Per lavorare con Se volessi metterci Del marmo Quindi potrei fare una cosa Del genere Che arriva qua Si ferma così E qua fa così Praticamente Che io non c'ho voglia Di copiare le forme Degli altri In realtà Tanto è una chitarra Con cui devo fare metal Quindi deve Essere una roba Metallara Potessi fare il retro Come la Jack Standard La più squadrata Ma ci sto ragionando Allora Vediamo Così Infatti andiamo a vedere Un po' d'altre Infatti andiamo a vedere Un po' d'altre chitarre Ma prendiamo l'ispirazione Vediamo che hanno fatto Anche altri Tanto Dal punto di vista Del copyright Se uno migliora Ma anche dal punto di vista Di un brevetto Legalmente Se uno migliora O modifica Un layout In qualcosa È valida Come cosa Si può fare È legale Non è legale Rifarlo paro paro E poi Una certa Se uno sta facendo Una cosa Troppo simile La gente se ne accorge Allora Vediamo Tu mi dicevi Flying V C'è già un'altra Che devo fare Flying V Quindi quella lì Già è Flying V Questa sto cercando Di decidere Una Jack Stang Vediamo un po' Jag Non ce leggo Non ce leggo Ah dici così Insomma quella di Kurt Cobain Non lo so Non mi è mai piaciuta Sta forma Troppo strana Troppo simerica Vediamo un po' Di forme strane Tipo Mockingbird Ma ce l'ho una Mockingbird A quel punto faccio Una Mockingbird Che quindi poi Sale così Com'è la Mockingbird L'ho fatta troppo indietro Dove sta la Eh sì Potrei farla come una Mockingbird Quindi poi quella sale così Arriva più Facciamola da qua Arriva così E riscende di così Potrei tranquillamente fare Tipo Mockingbird Qua sopra Quindi Questa risa Anzi facciamo un altro colore Qua Facciamo le due opzioni Con un colore diverso Lo faccio più corto Solo perché poi qua Non avrei spazio Ho sbagliato a fare la pagina Peccato che non posso Ma non posso cambiare Il layout della pagina E' un po' Limitata Quest'app Della Samsung Devo dire C'ha un sacco De cose fighe Però Molte cose Sono limitate Cioè una volta Che hai una pagina così Non la puoi rimpostare Però sì Diciamo Potrei anche fare Una cosa del genere Quindi Così Che poi sale Una cosa del genere Tipo così Anche Ho pensato Di andare Verso una Mockingbird Però boh Volevo Staccarmi un po' Dal discorso Mockingbird Vediamo qualcosa Di strane Comunque Alberto Ha problemi Con il ponte fisso Cioè Di forme potresti Ispirarti a chiedere Sovietiche Io vorrei vedere Così Dove sto scrivendo Non sto scrivendo A nessuna parte Vediamo Unusual Guitar Shapes Epics Il cazzo Shapes Ok Questi sono Un po' Troppo Unusual Pure Per me No Sai che scomodità Sta cosa Però Qualche idea Mi sta Avvenendo Qualche idea Mi sta Avvenendo Fai la Virgin Ma io in realtà Voglio inventarmi un design Mio Non voglio Fa Robbe già Viste Ah questa è bella Però Questa è figa Mi sembra Tipo uno squalo Mi è venuta bene Mi piace Però Non voglio Fa una cosa Del genere Anche perché Non ho abbastanza Legno Uh Guarda che figata Questa Questa è figa Cazzo Questa è davvero Figa Vabbè Mo ci penso Proviamo A disegnare qualcosa E vediamo Alberto Panni Poi te lo spiego Ehm Ok Poi me lo spieghi Allora 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 Vabbè Proviamo a fare una forma qua Allora Cancelliamo questo La forma sotto mi piace Sono abbastanza soddisfatto Poi magari Qualche cosa Qualche modifica La faccio Vediamo la forma sopra Perché Per esempio Io qua a sto punto Ci potrei fare Qualche roba Tipo Che va un po' più di così Per esempio Un po' risale Però invece di farla risalire dritta La faccio risalire così Per esempio Allora Farma Falla a forma di mitra Però per esempio Potrei far salire così Quindi se io facessi questa cosa Questa arrivata sopra Così No Facciamo salire così A forma tipo di ala Fa una roba Tipo così No Allora aspetta Facciamo una cosa Togliamo questa Allunghiamo questa Così Quindi Fammi fare una cosa Toglio un po' di merda Poi io qua vorrei fare Una parte che rientra Ho già abbastanza deciso Che questa parte La voglio far rientrare qui Però poi non so come proseguire Facciamo la parte in blu Quindi qua la voglio far rientrare Dico sì Che non ho ancora deciso Deve essere single cut O double cut Questa chitarra E qui l'ho fatto Perché single Troppo asimmetrica qua Che mo sto facendo il disegno Così a mano libera Senza neanche Preoccuparmi di Asimmetria Forma X Mi sembra un po' banale Semplicemente Fa una forma X Però mi piace la parte sotto Quindi magari fare Appunto Una roba più così Più artigliata Qui giù Quindi che va di così Questa parte Lo ingrandisco così Vedete meglio Cioè questa parte Falla andare di così Mo leviamo un po' di merda E qua mi è venuta un ideale Leviamo un po' di merda Ok Quindi Fare una cosa del genere Questa si ripiega così Mi fa Un artiglio Qui dietro Per dire Tipo così Perché così segue Un pochino La prima parte Annesso Ok Vi ho avuto un attimo Che non si è visto niente Non so che cosa è successo La connessione qua Della zona Fa un po' schifo Quindi non mi avete sentito Per qualche secondo Probabilmente Vabbè Non tanto Non avevo detto Niente di particolare Comunque dicevo Io voglio fare una cosa Del genere Quindi Che magari riprende Un pochino Sta parte qua Questa sarebbe un'opzione Però non sono Convinto Non sono convinto Non mi convince Ah facciamo un'altra pagina Facciamo una pagina nuova Facciamo una cosa da zero Perché non mi convince Ancora Ancora non sono convinto Non sono per niente convinto Di questa cosa Facciamo una cosa diversa Allora Abbiamo detto Che l'artiglio ci piace Quindi facciamola un po' più grande Magari Quindi abbiamo detto Che possiamo fare Che poi questo è un foglio a quattro Mannaggia il cazzo E quindi è pure scomodo Da sto punto di vista Vediamo Se io volesse Abbiamo detto Per l'artiglio Il basso Mi piace No no Ma tanto lo so farvi Se disegno Abissi ricci Non è problema Volevo fare qualcosa Di originale Sto cercando di fare Qualcosa di originale Cioè Aspetta Fammi ritornare un attimo A questa Perché Cioè Già così Per esempio Prendendo Facendo un attimo Il rosso Questa parte Questa qua Già così Non mi dispiace Poi tra l'altro Sto rosso è bruttissimo Fammi un attimo Ecco Rosso Ah Questo si chiama rosso Quello è cacca Non è rosso Quello è merda Oh Così per esempio Cioè Già così Non mi dispiacerebbe Ma a sto punto Cambierei L'artiglio qua Farei una cosa più del genere Mi dice Fa un artiglio Farei una cosa più così No Così tagliata No C'è una cosa tipo più Così Per esempio Che poi quindi C'è anche una scalanatura Qui Tipo così Non sarebbe Una cattiva idea Ispirarsi a un corvo Tipo E infatti L'idea era quella Un corvo Una cosa del genere Però Boh Il corvo E' difficile poi Dargli proprio l'idea Del corvo Capito E' un difficile Dargli un'idea Adatta Anche perchè poi I corvi sono animali Abbastanza stupidi Quindi Però per esempio Togliendo St'artiglio Mettendo per esempio Sto Sto Prendendo la parte In rosso Sto ragionando così Quindi Togliamo un po' di Merda Sempre Facciamo una cosa così Ok Saliamo qui E poi da qui Per esempio E che non voglio fare La solita cosa Classica Del corno Maledetto Così Capito E' un po' banale Cercando di fare Una cosa Leggermente diversa Quindi per esempio Come possiamo salire Qua Che mi rompo Il cazzo Di fare la solita cosa Double cut O single cut Cioè Dici vabbè Che vuoi fare Quelle due Sono le opzioni O fai double cut O fai single cut Oppure fai una V Allora Se io facessi Una cosa del genere Per esempio Tipo Un'opzione Un'opzione Dov'è C'è l'artigo Fare la punta Fare la punta Boh Non lo so Ci sto ragionando Facciamo una cosa Nuova Facciamo da zero Facciamo una roba Da zero Facciamo qualcosa Completamente da zero E Vediamo Cos'è la cosa Dell'artigo Voglio fare una cosa Un pochino Più Vediamo Se volendo fare Invece una cosa Un po' Più Allora Ragioniamo un attimo Perché Questa qui L'idea non è male Posso ragionarci Ma Ragioniamo un attimo De persona Se io c'ho Dei legni neri Quale posso fare Come idea In generale Potrei Vediamo Vediamo che cosa C'ho in stanza Qua Allora Perché io quasi quasi Stavo pensando Di fare una cosa Un pochino più Tecnologica A questo punto Quindi prendere ad esempio Qualche Componente per computer Qualche cosa Del genere Perché comunque Double cut Ne ho fatte tante Di single cut Ne ho fatte un paio E c'ho Ups C'ho già la mia forma Single cut Devo Trovo un'idea Facciamoci un giro Su internet Vediamo che troviamo Crea Cerca Cerca qualcosa A tema cyberpunk No Tema cyberpunk Assolutamente no Al massimo Deve essere Tema moderno E basta Cyberpunk Me sta sul cazzo L'idea del cyberpunk Anche se però Che a me sta sul cazzo L'ambientazione Quella di proprio De cyberpunk 2077 Una chitarra molto geometrica Squadrata In quelle case No Assolutamente no Troppo geometrica E' meglio inserire Meno forme geometriche Possibili Però vediamo Un po' Cyberpunk Non 2077 E che palle Arriva tutto 2077 Cioè allora Uno cerca cyberpunk E tutto cyberpunk 2077 2077 Ecco Mie Che Palle Mo Quando cerchi cyberpunk Cerchi quel gioco Maledetto Praticamente Io non lo sopporto Guarda Proprio l'ambientazione Messa sul cazzo Non è il gioco Di per sé Che poi Vabbè Fatto un po' Col culo Ma quello è un altro discorso Ma non puoi Fare a meno Di trovare Sto cazzo Dei giorni Dei miei coglioni Che palle Prima trovi un sacco De cose fighe Con l'idea Del cyberpunk Eccetera Mo invece Trovi sempre Sto cazzo De cyberpunk 2077 Vabbè Eh magari Cyberpunk style Eh qua Scommetti Che mi trova Sempre le stesse cose Di prima Mamma mia Poi tra l'altro È stato Una flop Incredibile Un flop Incredibile Quel gioco Cioè Ormai Trovi solo Le cose Dei cyberpunk No basta Mi sto incazzata Fanculo cyberpunk Allora Facciamo Allora Facciamo una cosa fantasy Che è una cosa Che non mi piace di più Ok Fantasy Vediamo Cosa possiamo mettere A parte The witcher Oddio Insomma avete visto Quanto cazzo Fa schifo Cursed È uscita ormai Da un po' Ma poi non l'hanno più Ehm Steampunk Giusto Bravo Questo mi piace di più Come idea Oh Bene Ottimo Bravo Questa è una buona idea Perché così Lavoriamo pure un po' Con l'ottone E con rame Sarebbe figa Come idea Mi piace Come cosa Buona idea Ecco Vedi Questa potrebbe essere Un'opzione Lavoriamo un pochino Col rame Pure Sarebbe Oppure Un po' Sì Un po' Con il rame O con l'ottone Perché possiamo Fare delle belle Reazioni chimiche Con questi due materiali Sarebbe Un'idea Quindi prendiamo Ehm Se posso prendere Una forma abbastanza Standard In realtà E lavorarci poi E togli E aggiunge Cose del genere Perché comunque Il legno È nero Se prendo I tubi Di rame E li piego Sarebbe buono Tranquillamente Posso farci Delle cose Fighe Sulla chitarra Ah Anche questa Sarebbe un'opzione Sarebbe un'opzione Sì sì Mi piace Come cosa Mi piace Ok Allora Cominciamo a ragionare Su una cosa del genere Va bene Allora Questa qua La lasciamo da parte Anche se non sono Molto soddisfatto In realtà Però Lavoriamo su questa Quindi Sull'idea Un po' più Steampunk Quindi Per esempio Partendo Se io avessi Dei tubi Banalmente Allora Io vorrei Però Ah Forse ho un'idea Aspetta ho un'idea Perché vorrei avere la pagina completa E poi ingrandire Fa una cosa Forse mi è venuta un'idea geniale Allora Così Aspettate un attimo Che mi è venuta Un'idea Figa Per sta comodo Ok Metto la rotazione bloccata Verticale E adesso faccio così Giro La finestra Proprietà Vediamo se la posso girare No Aspetta Vediamo se è ruota Trasforma Modifica Oh Sì Che bello In senso Anti-orario Oh Bene 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 Lo vedrete un po' più grande Ma va Un po' sgranato Ma va bene Perché così riesco a disegnare Perché se no sto scomodo proprio Ah Molto meglio Perché così posso ingrandire Oh Mo' sì Che se ragiona Va Fan Un po' Eh Un po' sgranato Dai fa niente Però così ce sta Oh Così sto più comodo Vedete il tablet al contrario Ma sti cazzo Io me la posso girare Come cazzo mi pare Adesso Allora Ragioniamo Ora me sto più comodo Allora per esempio Se io volessi fare una chitarra Da qua Ora mi posso fare I miei cazzo I miei cazzo di linea mezzana Finalmente Oh Allora Quindi Partiamo da questa cosa Vogliamo fare una cosa stile Steampunk Quindi inseriremo un sacco di ingranaggi Cose Questa idea mi piace Grande Quindi possiamo fare Per esempio La forma facciamo abbastanza standard Quindi possiamo fare una C'è una nera qua Possiamo fare Quindi una roba del genere Magari un pochino più Spigolosa Un pochino più aggressivotta Quindi tipo così No Un pochino più aggressiva Cose del genere Quindi cose così Per esempio O magari ecco Possiamo fare Invece che questo Di così Lo possiamo fare Di così Verso l'alto Quindi al contrario Che gira In questo verso Ok Eh così Posso lavorare un sacco In ottone pure Però io preferirei Lavorare in rame Perché il rame Lo posso ossidare Molto facilmente Capito Ecco Vedi possiamo fare Una cosa del genere Se noi lavoriamo così Ecco Però facciamo un po' più avanti Allora O facciamo una cosa Bella Spigolosa Così Oppure a quel punto Posso girare In quest'altra direzione Oppure Per esempio Posso fare Un buona parte No 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 Vabbè aspetta Facciamo una forma così Guarda così Facciamo Facciamo single cut Perché mi dà più spazio Per mettere materiale Per esempio Posso fare una single cut In questo modo Ecco Partiamo da una single cut Così per esempio Ah ma voi lo vedete A rovescio Però va bene Sti cazzo Senti ve la metto dritta Aspetta un attimo Aspetta un po' Come si faceva Come si faceva Una trasforma Capovolgi di Più di 180 gradi Oh perfetto Che lo vedete meglio Secondo me Così Benissimo Perfetto Facciamo un tocco Più piccola Va bene Va bene così E Così Così voi la vedete dritta Almeno Allora Poi a questo punto Posso fare una cosa del genere Se no Potrei pure fare una V Però Ecco Tipo così Prendiamo una forma Un pochino più Partiamo da questa forma Partiamo da questa forma qui Ok Noi partiamo da questo Molto rapido E da qui Togliamo e aggiungiamo roba Che questa è più o meno la forma Della Tiny Rock Un pochino diversa in realtà Però Io intanto qua Ci tolgo questa parte Quindi questa parte La facciamo bella dritta Poi pure qua Andiamo dritti No così per esempio Ecco No no Aspetta A qua vado dritto Ho già deciso E magari pure Magari qui rientriamo Ecco Già mi comincia a piacere Magari qui rientriamo Così Poi Qui Scendiamo Magari passiamo al curvo Qui in questa zona Però un po' più avanti Questo lo dovrei Vorrei avere un pochino più qua Un pochino più Così No era meglio prima Come era Faccio tornare indietro Ecco così per esempio Faccio una bella linea dritta qui Un'altra così E E poi qui iniziamo Andà sul curvo Curviamo qui E poi qua Ritorniamo squadrati magari Con una cosa del genere O squadrati così Single cut Ma a sto punto Io direi Fammo squadrato Pure questa parte Più squadrata Come chitarra magari Ok Così per esempio No Ok Però a sto punto Io qua Farei un double cut Però sai Farei più double cut Che single cut Tipo così Ok Già mi comincia a piacere Questa cosa Poi chiaramente Questa è una bozza Poi Si deve fare bene sul legno Una volta Incollati i pezzi Eh questa forma Già Non mi dispiace Così per esempio Un po' simmetrica Poi cercherò di capire Dov'è la parte Che non mi torna C'è qualcosa Qua probabilmente Questo deve stare Un po' più Ecco Già così Ok Quindi per esempio Noi facciamo Questa parte Un po' più grossa Qui Una cosa del genere Ecco Per esempio Quindi qua Attaccheremo Il bottone Della tracolla Essenzialmente Un po' più grosso Facciamo Ok Qui attacchiamo Il bottone Nella tracolla Essenzialmente Poi A questo punto Qua togliamo Andiamo dritti Per lo più Facciamo a questo punto Con questo Che mi fa Le linee belle dritte No però me le fa storte Non mi piace Quindi andiamo Un po' più dritti E poi qua Effettivamente Magari si curva Un pochino Così Per esempio E mo decido Che fare qui dietro Per esempio Io qui dietro Potrei togliere Materiale Anche si Potrebbe togliere Un po' di materiale Qui Per esempio Possiamo fare così Qua togliamo Invece di andare di così Possiamo anche Allungarci Magari togliere Un po' di materiale Da qua Allungarci così Questo qua Non sarà Simmetricissimo No però così Sono andato Su quella di prima Che non mi era piaciuta No io direi qua Proprio di fare Una roba squadrata Così Più squadrata Possibile Mi sto avvicinando A un'idea Che mi piace Quindi poi magari Questa è la parte Più difficile Decide la forma Poi dal resto Viene Però qua mi piaceva Come avevo fatto Quella di prima Così Ok Però no Non è vero Non mi piace No Non mi piace Mi piace più Che c'è il punto Di flesso Qui Lo sto facendo Molto velocemente Giusto per avere Un'idea Generale Della chitarra Però io direi Questa parte qua La posso rimpicciolire Un pochino Quindi magari Farla Così Così la facciamo La facciamo più in scala Ok Quindi togliamo questa Ecco Così già un pochino Più in scala Per esempio Volresti giocartela Su battipenna No no Battipenna Non esiste Non monto i pick up Diretti Ecco Io mi direi Io direi Una cosa del genere Che ritorno Sull'idea Che avevo avuto Inizialmente Di fare una cosa Molto squadrata Ecco Per esempio Già questa cosa Non mi dispiace Già questa parte Qui Del corno Poi possiamo andare Indietro E avere quindi Una zona Più dritta È un'opzione Ok Già è un'opzione Quindi andare Su una cosa Molto squadrata Per esempio Perché stavo Vedendo un po' Di design Effettivamente Avrebbe un senso Potrebbe Almeno avere un senso Altrimenti Potremmo Arrotondarci Nella parte dietro E fare Un pochino Di cavità Figo Oppure Ancora meglio Ancora meglio A sto punto Fammi una cosa Del genere Sai che ti dico Mi è venuta Un'idea Mi è venuta Un'idea Facciamola in rosso Perché mi è venuta Un'idea Se io facessi Questo Allora Per esempio Facciamo una cosa Così Tipo Più o meno Magari pure un po' Più o meno curva Ecco Così Per dire Ma perché mi usa Sto rosso brutto Voglio usare Questo rosso brutto Usami il rosso Quello bello Ok Non gli è piaciuto Aspettate un attimo Rosso Grazie Allora Se io facessi così E taglio un po' Cosa del genere Più Più a x Diciamo Ma non proprio a x Qua ci curviamo Andiamo di così Facciamo una specie di Razor back Diciamo Per capirci In modo che Questa la posso usare Anche Con Anche Come Una chitarra a V Diciamo Su entrambe le gambe Comodamente Se fa una cosa così Tipo Non così Più qua Forse deve essere Vediamo Tipo così Tipo Poi Riscendiamo Qui Se io arrivo qui Chiaramente Il formato della carta È sbagliato Quindi sono un po' scomodo Però Se io riscendo qui Facciamo un po' più larga Un po' più corta Io qui Riscendo Io qui salgo Poi qui Riscendo di così Risalgo Risalgo così A x Per esempio Una cosa del genere Così Faccio una single cut Come volevo farla io Più o meno Inizialmente Anche così Non sarebbe una cattiva idea Fai una roba di questo tipo Quindi tipo Tipo Razorback appunto Ah non sarebbe male Non sarebbe affatto male E quindi A quel punto Lavorare un pochino Con l'ottone Quindi per dire Io posso Mi metto un colore ottone Mettiamo il giallo No Rame Vediamo Color rame Color rame Mettiamo color oro Da facciamo questo Mettiamo questo colore qua Allora quindi per esempio Potrei lavorare Un pochino Col rame qua O magari fare un pochino Di canali Per led Ste cose qua Eh ma è difficile fare Il design Da zero Una cosa del genere Potrebbe essere carina Però Poi dargli che ne so Perché Far passare per esempio Tu bocino Tu bocino Tu bocino Io più che altro Io più che altro Voglio usare il legno Non Il metallo Perché a me non è che piaccia particolarmente Lavorare il metallo Però qualche cosa figa si può fare E siccome è nera Il Diciamo il rame ci può stare bene Come colore Siccome è nero il legno Andiamo un po' Che cose Sto dando un'occhiata Un pochino di design Qui ve li condivido Vedendo se c'ho qualche ispirazione Magica Ma per il momento nulla Ho pensato magari posso fare Qualche cavità del genere Sarebbe stata interessante Ci devo ragionare un altro po' Ehi per esempio Aspetta Forse un'idea mi è venuta Per esempio no Volendo Fare Una cosa del genere Quindi aspetta Togliamo un pochino di roba Se io facessi così Faccio questo corno Come mi è venuto Che mi 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 sconfinfera Poi Andare dietro così Effettivamente Così E poi Lasciare un pezzo così E riandare dietro di così Poi mi ricollego a questa No Mi ricollego a questa parte qua così Per esempio Anche Oppure Da qui La seconda parte Che fa questo Quindi fare due livelli diversi Essenzialmente Questa non mi sembra una cattiva idea Tipo Sui materiali magari Oppure Semplicemente qua Andare su una Stratoforme Normalissima Così Quindi qua andare su una normale Stratoforme E togliere un bel po' Di materiale Per farla molto Molto Fina Tipo così Tipo eh Mostro a fare una cosa Molto 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 al volo Per esempio Una cosa così Un po' di merda Ok Così già non sarebbe male È una forma interessante Sicuramente È una forma interessante Così Quindi poi magari Riprendere un po' Sta forma qui Fare come avevo pensato prima Una cosa un pochino più Cicciottella Tipo così Qui per esempio Fare una roba più Più Se potrei fare una cosa più così Per esempio Allora qui dobbiamo Comunque curvare Ok Qui curviamo così E poi possiamo Andare Una cosa del genere Non sarebbe male Già così mi incomincia Cioè Incomincia ad esserci l'idea Già inizia ad esserci l'idea Come forma Poi questa Tanto è da definire In ogni caso In caso la forma poi È da definire Perché poi tocca Pure vedere A quanto Rispetto a quanto Legno Però se volessi Riprendere questa cosa Così Io vorrei fare Così Così Magari fare Una seconda Sempre una seconda Sezione Per riprendere Questa parte Qui No però Dio così Già non mi dispiace Magari fare un pochino Più fino Questo Così Comincia a piacermi Ricerchiamo di sistemare Questa parte qua sopra Però Che ancora non sono soddisfatto Perché Ci sta Però c'è qualcosa che C'è qual quadra Che non cosa Così per esempio Ci aggiungiamo Una curva più Simile a quest'altra Magari Eh Riuscirla a fa' Tipo così Sono arrivato al limite Dalla pagina Tipo così Eh Non ci sarebbe male Effettivamente Non sarebbe malaccio Effettivamente Così Potrebbe Potrebbe essere interessante Come forma È abbastanza aggressiva Magari un po' più squadrata Qui Quindi Magari Cambiamo il punto di flesso Invece di farlo Qui Il punto di flesso Lo faccio Tipo qua E quindi Questa la faccio salire Ancora tipo così Sempre curva E poi Qui riscende Vedi Incomincia a prendere forma Incomincia a prendere forma Un po' strana Però incomincia ad avere un senso Quindi fare per esempio Una cosa del genere E poi E poi chiaramente Devo riprendere questa forma Non sarebbe male Quindi poi qua Allunghiamo un altro pochino Quindi diciamo Questo è Così Tipo così Non sarebbe male Fate un attimo però Ridurre un po' Non lo posso fare Sposto un po' più su Ecco Così per esempio Oppure no Questa qua così Non lo so se mi piace Non so Infatti stavo pensato Io headless Però no Non mi vado a fare headless Non c'ho proprio voglia Quindi vedi fare Una cosa così Questa arriva Qui la forma Così Non sarebbe male Però io sposterei Un pochino indietro Questo punto di flesso Quindi sempre Di così Però lo spostiamo Un po' più indietro No ancora un po' più indietro Ecco Troppo Mi spostavo troppo Aspetta No Dovrei forse Arrivare da più giù Allora poi perché Non è in scala Poi gli toccherebbe Vederla Fatta bene Con le misure giuste Con programma De grafica Però già così Non mi dispiace Però anzi Se io cambiassi Un pochino l'angolo Qui che palle Mi ha alzato Il coso dei pulsanti Via Se io alzassi Oh e dai Avanti Cambiassi angolo Qui Facessi più così Ecco vedi Qua già mi piace di più Perché sembrava Troppo un corno E troppo Una parte dietro Ok Già così Non mi dispiace Bella aggressivotta Ci sta È molto aggressiva Qua per esempio Ci possono stare Le cosine interessanti Interessanti Questa non mi dispiace Affatto Come forma È molto carina Quindi per esempio Qua sarebbe più o meno Il ponte Qua i due pick up Uno È due Qua finisce il manico Anzi un pochino più dentro Questo pick up Facciamo 24 tasti Ovviamente Eh Ci potrebbe stare Qua mettiamo Lo switch Il potenziometro Il jack Lo mettiamo A sto punto qui Così non dà fastidio Eh Anche Qui il jack Quindi qui il jack L'uscita Qui Switch Qui Così VR Qui magari Mettiamo Lo split Dei pick up Ah Questa è dal contrario Giustamente Perché L'ho messo dritti Perché io la sto a vedere Da sopra Come vedrai Normalmente Una chitarra Invece Poi ve la sto facendo Vedere frontale Però sì Dai Ci avrebbe senso Così Beh Dai Ci sta Magari abbassare Un pochino Questa parte Perché Sennò È troppo alta Quindi Farla un pochino Più fino Ecco Per esempio Aspetta Com'era prima Ecco Lasciamo questa Se io volessi Abbassarla un po' Così Farla un pochino Più Più Fina Tipo così Vabbè Questo per esempio È una cosa Che posso decidere Headless Sì Infatti L'ideale L'ho piata da là Poi non so Se lasciare questa parte In realtà Perché forse Senza ci starebbe bene Fammi una mettere Fammi un attimo Cancellare Voglio vedere Tanto la posso Sempre rimettere No Così è molto banale Questa qua Gli dà carattere Questa cosa Gli dà carattere Sarebbe Un pochino Scomoda Da utilizzare Ehm A meno che Io questa parte Non la girassi Se io girassi Questa parte Vediamo Selezioniamo Questa parte Qui Ok E là Aspetta La posso ruotare Questa qui Vediamo Sposta indietro Punti in avanti Raddrizza No Non la posso Ruotare No Però forse Ruotata Da st'altro lato Per dire Non sarebbe male Che cosa Fammela fare al volo Tipo Tipo così Eh non sarebbe male Però dovrei spostare Il jack Lo dovrei mettere Tipo qua Perché così Avrei lo spazio Qua dentro Per Qua per Per Appoggiarci La gamba Volendo Però non lo so A me sta Cosa qua Mi piace di più Questa qua Al contrario Ci devo ragionare Su questo Però il resto Della forma Mi piace Quindi la Finalizziamo Aspetta Sono un po' storto Finalizziamo Oh Non ho storto Ok Sì Così Così mi piace Sbagliato Ho tolto Una cosa di troppo No Mi sembra No Sì Ho tolto Una cosa di troppo Ma in realtà Non mi conviene Mettere il nero Sopra Mi lascio Così Indorato Mi piace Così Va bene Lasciamola Così Dorata Per il momento E poi Ragiono Su St'altra Parte Poi Ragiono Su questo Sul resto Però diciamo Che così Non mi dispiace Ci potrebbe Stare Sì Oppure Vado Oppure Vado Perché Voglio Cenare Ho iniziato Più Tardi Oggi Perché Avevo Da Lavorare E quindi Ho fatto Un pochino Più Tardi Però Non è Male Questa Qui Non sarebbe Male Ci devo Ragionare Un po' Sulle Misure Per Bene Perché Poi Chiaramente Mi devo Mettere Con Foglio Grosso E Farla Bene Magari La prossima Settimana Facciamo Questo Ci mettiamo Sul tavolo Quest'altro Che metto Di solito Qua per Fa lezione E Ci mettiamo Bene Con Foglio Grande E La Facciamo Per Bene Con Tutte le Misure Vediamo Pure Le No Così Non Mi Dispiace Come Forma E Abbastanza Aggressivo Ci si ragiona Beh ragazzi Io vi ringrazio Per aver seguito Fino a qui Prossima Settimana Continuiamo Sta cosa Prossima Settimana Rispondo Pure Un po' Di commenti Che Stasettimana Non ho Fatto In Tempo Perché Niente Ho finito Di lavorare Tardissimo Quindi Non si Poteva Fino Di Lavorare Sette Non C'avevo Tempo E E Niente Poi La prossima Settimana Continuiamo Sta Chitarra Facciamo Magari Il Progetto Fatto Bene E Rispondo Un po' Di Commenti E Detto Ciò Ragazzi Io vi ringrazio Per aver guardato E se vediamo Prossima Vorta Bella